Meningite e nessun allarmismo. I dati dell'Istat confermano che i casi registrati sono sovrapponibili a quelli degli altri anni. Non c'è stato infatti un incremento, tranne che in Toscana, dove il numero di meningiti di origine meningococcica sono passati da 16 casi all'anno a 62 e 63, con 13 decessi nel 2015-2016. Diminuiti i casi a Caltanissetta, da 13 del 2015, di cui 8 virali e 5 di tipo batterico, si è passati nel 2016 a solo 8 casi. 6 virali e 2 batteriche. A darne notizie Alfonso Averna, primario facente funzione dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Ospedale Sant'Elia, che abbiamo incontrato dopo le continue notizie di nuovi casi riportati dagli organi di informazione. Quello che fa allarmare maggiormente è il meningococco. Meningococco che è un germe di cui esistono 5 ceppi, ma quelli che sono maggiormente virulenti e che si trovano maggiormente in Italia sono il ceppo di tipo B e il ceppo di tipo C. Mentre gli altri ceppi, il ceppo A, il ceppo W135 e il ceppo Ipsron, praticamente in Italia non determinano la meningite. L'infezione da meningite avviene attraverso la via aerea. Infatti è stato visto che molti giovani, molti adolescenti, nelle loro prime vie aeree presentano il meningococco, che poi attraverso le goccioline di flugge, lo starnuto, possono praticamente trasmettere agli altri soggetti. Quindi non c'è allarmismo perché il paziente non si infetta con la meningite attraverso l'ammalato, il malato che ha la meningite, ma si prende la meningite da portatori sani. È difficilissimo invece prendersi la meningite da pazienti che hanno una meningite. Ma se eventualmente uno è stato a stretto contatto con uno di questi pazienti, basta fare una profilassi con antibiotico-terapia specifico consigliato dall'infettivologo. Quindi non c'è allarmismo perché il numero dei casi sono sovrapponibili a quello degli altri anni. Non c'è allarmismo perché eventualmente c'è un caso di meningite, si inizia a fare subito la profilassi con l'antibiotico-terapia e quindi uno non si infetta. Poi abbiamo un altro dato importante, abbiamo i vaccini. I vaccini per quanto riguarda la meningite meningococcica, con la copertura di tutti i ceppi di tipo di meningococco.